Ciao qui Gio di Seduzione Attrazione e nel video di oggi rispondo ad una delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è questa. Parlare con una voce sexy durante l'approccio può essere utile o sembra esagerato? La pura verità è che in alcuni casi potrebbe essere utile, ma nella maggior parte dei casi, che statisticamente troverai di fronte a te, non lo sarà. Perché di notte, molto spesso, la musica sarà così forte, di notte intendo in discoteca, sarà così forte che non ti permetterà fondamentalmente di usare una voce bassa, ok? Sono i bassi che sono considerati più sexy dal punto di vista musicale, quindi necessariamente questo diventa un problema se non riesci a farti sentire, ok? Quindi già la notte è una situazione che, eccezion fatta per situazioni particolari all'interno e locale, non fa sì che fondamentalmente utilizzare questo tipo di voce, che per di più devi essere in grado di utilizzare, questo comporta che devi essere in grado di fare una respirazione diaframmatica, devi gonfiare fondamentalmente d'aria quello che è il tuo stomaco e dopodiché parlare di conseguenza, ok? Cioè sfruttare quella che è l'aria che ha all'interno per parlare e questo produce quindi una voce più bassa, più lenta, più sexy. Ora questo è un qualcosa che in alcune aree, potenzialmente, di un locale notturno dove è possibile che tu sia sentito e ti ricordo che hai chiesto durante l'approccio, quindi durante l'approccio, è un qualcosa che può potenzialmente funzionare. Devi considerare che nel momento in cui tu approcci la ragazza, lei non è che si rende conto di quella che ha creato la voce reale, quindi può essere un qualcosa che può avere un senso e un luogo, per carità. Di giorno ci sono delle altre limitazioni, così come per la notte, perché molto spesso le ragazze stanno camminando in maniera veloce, hai bisogno di fermarle con energia, magari la stai rincorrendo, piuttosto che ti serve un'energia forte per fermare la ragazza per qualsiasi motivo e quindi vedi che in situazioni di questo tipo diventa difficile fondamentalmente avere il tempo per fare una cosa come quella che stai chiedendo, cioè utilizzare la respirazione diaframmatica per ottenere un timbro di voce diverso, se così lo vuoi considerare, o meglio non un timbro, una sonorità di voce diversa. Ora, è possibile, potrebbe essere possibile soprattutto se hai ragazze ferme, quindi tu ti avvicini, andando lentamente, perché ricorda che non ha senso se tu sei nervoso che utilizzi un tipo di voce di questo tipo. Questo per darti una prospettiva un po' di massima relativamente a quello che mi hai chiesto, però lascia che ti dica un'altra cosa, che è ancora più importante in realtà della domanda. Io vi ho citato diverse volte in questi video fondamentalmente, che recentemente ho fatto questo corso al vivo, 90 giorni in azione, in cui a Milano si sono presentate circa più di 80 persone, mi sembra. E quindi parliamo di persone paganti che venivano da fuori, in alcuni casi, o comunque si sono ritagliati una sera per venire a vedere un evento, e quindi persone motivate, più motivate di quello che è l'utente medio, che molto probabilmente segue questi video, ok? Fra tutte queste persone c'era una sola che nella settimana precedente aveva messo in azione un volume di approcci necessario, sufficiente, quantomeno, mettiamola così. Quindi signori, in questo momento per voi il vostro problema non è la finezza di avere la voce sexy durante l'approccio piuttosto che quello che è. I vostri problemi, così come i vostri risultati, non stanno nelle finezze, ma nell'applicare, applicare la roba che funziona e applicarla nella maniera intelligente. Quindi iniziate a fare le cose corrette, poi semmai un domani vi preoccuperete delle finezze, nonché adesso iniziate a pensare alle finezze e poi un domani magari farete. Non funziona così, non funziona mai così, nessuna cosa della vita, non solo per quanto riguarda le dinamiche seduttive. Quindi inizia ad approcciare di giorno e di notte, poi quando inizi ad avere risultati consistenti, costanti, ripetibili, semmai andrai a modificare, a twistare, a giocare con quelle che sono le cose che potenzialmente tu puoi fare, ok? Come per esempio modificare quello che è il tuo tono di voce iniziale quando inizi a fare l'interazione con la ragazza, ok? Ti ricordo che se puoi imparare approccio di giorno e approccio di notte, ci sono i link a Carpe Night e Carpe Diem in descrizione. Quindi, stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.